Buonasera, benvenuti a questo spazio di approfondimento nel quale tratteremo di salute, di salute pubblica e di un aspetto che man mano che passano i giorni diventerà sempre più d'attualità, ovvero sia i vaccini. Salutiamo subito l'ospite in studio, il dottor Massimo Agostini, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Area Vasta 1 e con lui cercheremo di capire un po', visto che fra un mese partirà la campagna di vaccinazione, tutti quanti abbiamo nella memoria che cosa è successo l'anno scorso con il Fluard e le conseguenze poi che ci sono state, di cui ci renderà conto anche il dottor Agostini e quindi vogliamo approfondire, come lo spazio lo dice, questo argomento. Allora, buonasera dottor Agostini. Buonasera a tutti e grazie per l'ospitalità. Niente, un argomento che inizierà a diventare di grossa attualità, lo è sempre stato, se vogliamo dirlo, perché le vaccinazioni non sono quelle stagionali soltanto ad essere sotto la vostra giurisdizione, ma quelle tutto l'anno. Perché vogliamo parlare di questo argomento? Perché i motivi sono molteplici e uno fra tutti è anche un allarme, un advertising che è arrivato anche dal Ministero della Salute su alcune malattie che si erano date per silenti e che stanno ritornando d'attualità e poi anche perché di recente qui a Fanno si è tenuto un convegno importante di cui lei era relatore, proprio su questo argomento e su altri argomenti. Allora, i vaccini, perché fanno così paura? Tagliamo subito la testa al toro. Nel convegno si è voluto proprio affrontare questo aspetto. C'è un dato di fatto che negli ultimi anni si è incrementato il timore nei confronti di una pratica medica che è quella scientificamente più riconosciuta come valida. I vaccini hanno cambiato il mondo della sanità perché grazie ai vaccini si sono dimenticate molte malattie. Molte malattie che erano gravi, che erano causa anche di mortalità, per cui se ne è persa memoria. Ed è questo il motivo per cui si è creata poi una diffidenza nei confronti dei vaccini. Sostanzialmente possiamo dire che i vaccini sono alla fine in male di se stessi, cioè nel senso che la loro efficacia vengono meno considerati rispetto agli effetti positivi che danno. Proprio perché sono scomparsi delle malattie. Vede, io quando ero bambino avevo degli amici, fortunatamente non erano molti, che però qualcuno c'era, che camminava zoppicando perché aveva avuto la poliomelite. Oggi i bambini non sono più così, non si vede più bambini con paralisi flacide da poliomelite o morti per poliomelite. Quindi di fatto si è persa una memoria rispetto a questa malattia, per cui la gente riconosce esclusivamente la possibile rischio di una vaccinazione, senza avere più memoria di quelle che sono invece le conseguenze gravi di una malattia. Ma questo vale per tutte le malattie. Prendete il vaiolo, il vaiolo è scomparso grazie alla vaccinazione. Dagli anni Ottanta si è smesso anche di vaccinare, perché è scomparso dalla faccia della terra. Però magari chi si ricorda il vaiolo dice, fortuna che è avvenuto questo. Ma la stessa cosa capita con tutte le malattie. Dalle malattie infettive prevenibili con vaccinazioni. Per esempio il morbillo. Le pensi che il morbillo, io professionalmente ne ho visti tantissimi, ma sono grandi, per cui di casi di morbillo e anche di epidemie. Ogni cinque anni assistevamo delle epidemie di morbillo, con la presenza di complicanze da morbillo. Comprese le morti, encefaliti, otiti, polmoniti, ricoveri ospedalieri. Quindi una realtà che oggi, grazie alle coperture vaccinali, si è dimenticata. E allora viene anche normale per un genitore avere una certa preoccupazione per la vaccinazione, perché non avendo memoria di quelli che erano i danni da vaccini, hanno giustamente una preoccupazione esclusivamente per gli effetti che può provocare un vaccino. E allora su questo è bene che ci sia chiarezza, ci sia trasparenza e ci sia una corretta informazione. Ed ecco il motivo del convegno. Ce ne abbiamo chiamato specialisti, che fortunatamente questo è stato organizzato non solo come Dipartimento di Prevenzione, ma anche come società scientifica. Io sono Vice Presidente per le Marche della Società Scientifica di Igiene e Sanità Pubblica. Sono venuti quindi docenti universitari rilevanti, ma soprattutto abbiamo un prontato sulla comunicazione. E la cosa bella proprio di questo convegno è stato scoprire che in Italia esiste un mondo di giovani motivati, seri, che affrontano anche l'informazione, non solo quella dei vaccini, ma della scienza in generale, su quelli che sono i nuovi mezzi di comunicazione. Purtroppo oggi la comunicazione è fatta da social network, da gruppi, da gruppi che spesso possono anche perdersi in argomenti che hanno poca a che fare con la scienza, ma hanno molto a che fare con la pseudoscienza o anche con la filosofia. E allora se si va dietro alla pseudoscienza e alla filosofia, si perde di vista quella che è la cultura scientifica, che è fondamentale per la nostra vita e che ci ha permesso di avere condizioni di vita sociali ed economiche importanti fino ad oggi. Il rischio è l'imbarbarimento, il rischio è avere un aumento progressivo di soggetti non coperti da vaccinazione, per cui si creano di anno in anno delle sacche che vanno ad aumentare le persone che possono prendere la malattia finché questo numero diventa tale che possono riscopiare delle epidemie. Ecco, quindi questo è un po' la scioma, meno ci si vaccina e più probabilità che queste malattie perse nella memoria, recente, ricompaiano. Perché insomma, qui ho dei dati che lei ci ha portato, in un qualsiasi anno prima dell'uso esteso dei vaccini in Italia si registravano 3.000 casi di poliomilite, 60.000 casi di morbillo e 30.000 casi di ipertosse, insomma quindi numeri importanti. E proprio un lancio di agenzia dell'ANSA del 7 ottobre scorso ha denunciato una recrudescenza dei casi di morte per tosse. Quindi insomma, non è una ipotesi così vana e così vanatoria, insomma c'è un reale rischio. C'è un reale rischio che si sta verificando, soprattutto quest'anno abbiamo visto, poi sono casi che hanno fatto anche notizia sulla stampa, il caso di un bambino morto per morbillo, con i genitori che si erano rifiutati di vaccinarlo. Abbiamo appunto questi casi di ipertosse, soprattutto di bambini molto piccoli, perché anche questi casi perché si verificano? Perché calando la copertura vaccinale, cioè dei soggetti che fanno la vaccinazione, aumentano il numero di soggetti che possono prendere la malattia. Quindi il microrganismo può circolare più facilmente. Ma soprattutto quello che diventa anche un problema, che se aumenta il numero di soggetti non vaccinati, si va anche a creare un problema per quei bambini, che per motivi di salute non possono fare la vaccinazione. L'alta copertura di vaccinati impedisce ai microrganismi di circolare velocemente e tende a tutelare, a diventare un cuscinetto, una sorta di difesa, anche nei confronti di quei bambini che per motivi proprio di salute non possono accedere a questa opportunità, a questo diritto. Quindi l'arma vincente è la copertura. Non è tanto io mi vaccino, sono tranquillo. No, è il tessuto sul quale io riesco ad agire, più ampio è... E più si tutela e più si riduce la circolazione, compresi quei soggetti, perché man mano che, se io vaccino anche il 95% della popolazione, c'è sempre un 5% che non viene vaccinato. Tra quel 5% molti sono soggetti che non possono vaccinarsi. Di anno in anno, se io calo questa copertura, vado sotto il 90%, aumenta notevolmente il numero di bambini che possono prendere la malattia. E negli anni questi si accumulano fino a creare un tessuto che può colpire anche i soggetti adulti. E quindi con conseguente anche gravi, nel caso di alcune malattie, come la rosolia presa in gravidanza. Cioè ci sono situazioni che possono determinare la sacca di suscettibile e quindi ricreare delle piccole epidemie. Ecco, si parla proprio nei documenti che ci ha portato di veramente malattie perse nella memoria, vaiole moragico, poliomelite, insomma, terrori antichi. Proprio questo era il titolo, insomma, dell'intervento. Perché terrori antichi? Sono terrori antichi perché erano un problema, veramente di grande sanità pubblica, ma con invalidità permanenti. Cioè la poliomelite è una malattia che crea invalidità permanente e si viene con una paralisi flaccida, può provocare la morte. E se io vado a chiedere ad un signore, magari che è ormai alla mia età e che ha avuto la poliomelite, perché a quel tempo non c'era la vaccinazione, gli dice, se avessi potuto vaccinarti per la poliomelite, cosa avresti valutato? L'eventuale rischio o il fatto della poliomelite? E di fatto è questa la domanda da porsi. Cioè se tornasse, e tenete presente che ci sono flussi migratori, si è tentato al pari del vaiolo, è stato un grande successo quello del vaiolo, perché si è riusciti a radicarlo su tutta la terra. Tant'è che si è smesso dagli anni Ottanta di vaccinare per il vaiolo. Io mi ricordo che quando vennero a scuola, addirittura a me mi vennero a vaccinare per il vaiolo a scuola, era un bambinetto, alle elementari, e mi fessero un graffietto sulla spalla. A me ce l'ho anch'io. Ma mio babbo non si poneva minimamente il dubbio se farmi fare la vaccinazione o meno, perché il vaiolo era tangibile ancora, c'era la memoria del vaiolo. La stessa cosa con le poliomelite, quando mi portarono lo zuccherino all'epoca, con le goccette della poliomelite, i casi erano talmente presenti che nessuna famiglia si poneva il dubbio di dire adesso non lo vaccino. E quindi era talmente tangibile l'effetto della malattia che il vaccino era considerato salvifico quasi. Quindi di fatto è stato questo il grande successo. Aveva un impatto emotivo anche, no? C'era un impatto emotivo della malattia. Però il problema è che possono tornare. Le tenga presente che la poliomelite, per quanto anche con l'impegno di alcune associazioni, per esempio c'era un progetto mondiale del Rotary per finanziare le vaccinazioni antipoglio anche nei paesi dove era difficile portare il vaccino, perché poi quello di tipo orale è un vaccino che è difficile da mantenere, quindi arrivare in alcuni paesi dove fa molto caldo, eccetera, era difficile in alcune tribù, in alcune realtà, ci si era il usi di poter addirittura sconfiggere la poliomelite a livello mondiale, eradicarla e quindi smettere anche di vaccinare. Invece ci sono focolai che continuano a persistere. Questi focolai purtroppo stanno incrementandosi e stiamo vivendo con i flussi migratori una possibilità di diffusione. Ora, finché tu c'hai una copertura, come ripeto, oltre al 95% in un paese c'è una certa tranquillità, perché quella copertura garantisce di fatto la possibilità di tutelare anche i non vaccinali. Ma nel momento in cui si abbassa, soprattutto sotto il 90% alla popolazione protetta, c'è il rischio di qualche ritorno di malattie. Tant'è che anche noi, quando arrivano i migranti che dobbiamo visitare per verificare le patologie, li sottopeghiamo a vaccinazione antipoglio, proprio per terrore e garanzia. Quindi questo è il vostro protocollo, diciamo, quando venite interpellati per... Per i migranti che arrivano, gli si fa la vaccinazione antipoglio, proprio perché c'è questo rischio. Ecco, voi avete una situazione di monitoraggio di zone più o meno calde, diciamo così, da questo punto di vista? Sicuramente sono quelle più calde, sono quelle dalla Siria, Pakistan, tutte le zone, ma soprattutto la parte centrale dell'Africa. Ci sono diverse, Medioriente, alcune in realtà, per cui di fatto ci sono questi focolai che facciano fatica a eradicare, sia perché ci sono delle guerre, sia perché è difficile anche portare il bacino nel posto, nonostante, ripeto, l'impegno di società come dei club di service, come il Rotary, che ci ha investito parecchio. Ecco, ha citato prima, così, a un passano, velocemente, una sorta di controinformazione, no? Si parla anche di questo, si è parlato anche di questo, ne abbiamo parlato più volte, che alle volte, insomma, si assorge il compito di saperne forse qualche cosa in più rispetto ai medici. Questo è un problema di comunicazione che c'è. Il problema di comunicazione è giustamente l'evoluzione della comunicazione. Oggi le notizie, come dite anche voi di Fano TV, sono in tempo reale, quasi, per cui ci sono i cruisti da strada, no? Di fatto è che, soprattutto nell'ambito dei social network, diventa difficile, perché spesso passano delle informazioni che hanno poco di scientifico, legate molto alle emotività, alle paure. Ed è chiaro che la paura è normale che ci sia, cioè, tutti abbiamo timore per la sanità in generale, quando ci si deve rilevare in un ospedale o in un ambulatorio c'è sempre questo timore. Però, di fatto, questi timori, appunto, spesso vengono alimentati da motivazioni non sempre perfettamente scientifiche. Ci vuole una corretta informazione. Su questo alcuni volontari, soprattutto gruppi di medici, ma anche altri, tipo ingegneri, altri che si stanno ponendo proprio il problema della comunicazione scientifica in ambito dei social network. C'è di tutto. E allora bisogna saper selezionare chi riesce a dare una corretta informazione da chi invece porta informazioni non corrette. Poi magari diremo anche alcuni siti dove ci si può rivolgere con tranquillità. Chiaramente voi siete sempre a disposizione, perché avete proprio due persone dedicate al counseling. Non solo. Noi su questo abbiamo puntato molto, ma questo, ormai tutti gli ambulatori di vaccinazione si sono ormai attrezzati in termini di un miglioramento della qualità, sia in termini di formazione del personale, sia in termini anche di qualità di servizi. A suo tempo siete stati presenti anche all'inaugurazione dei nostri ambulatori qui a Fano, che hanno una possibilità di ospitare in maniera anche piacevole, anche istruttiva. Ci sono libri, ci sono giochi per bambini. E c'è l'assistenza di personale che è sistematicamente, viene formato, viene portato a corsi di formazione, sono tavoli tecnici interni di approfondimento delle tematiche. Ogni bambino, c'è un'altra opportunità grandissima in Italia, che sono i pediatri di libera scelta, c'è la possibilità di poter rendere informazioni dai pediatri. L'importante è che siano pediatri anche ben formati nel campo della vaccinazione, perché è un settore abbastanza particolare e in genere sempre un po' più complesso. Quindi occorre anche lì che ci sia un aggiornamento continuo. Noi, soprattutto nella nostra realtà territoriale, lo facciamo spesso con i pediatri. Anche l'anno scorso abbiamo avuto un convegno, e quasi tutti gli anni ci si incontra con i pediatri dando voce agli stessi pediatri sulle problematiche delle vaccinazioni. E su questo bisogna rivolgersi a chi è preparato in questo campo. Ecco, il mondo scientifico, i medici, sono univoci nel giudizio su questa cosa? O avete anche difficoltà a rapportarvi anche con colleghi? Sì, perché ripeto, ormai le vaccinazioni sono un settore estremamente specialistico, perché sono tante, sono un argomento che richiede un approfondimento, che richiede quindi uno studio e un aggiornamento continuo. Noi su questo ci adoperiamo con molti medici. Poi è chiaro che addirittura l'Istituto Superiore di Sanità, con il professor Ricciardi, ha mandato anche un allarme rispetto a medici che non rispettano i criteri della scienza, perché un medico non può non prescrivere un vaccino, se no diventa controscienza e coscienza. Siccome il medico deve operare in scienza e coscienza, se viene meno un po' di scienza diventa un problema. Ecco, quindi nel mare magnum delle possibilità che ci sono, perché questa, chiamiamola così, controinformazione, nuoti nel suo brodo. C'è anche forse qualche interesse trasversale, forse economico, potrebbe essere anche questo un caso, per cui il prolificare di certi siti, di certe argomentazioni, ha un rebound mediatico così forte. Sicuramente non è da escludere, perché questo è molto probabile, anzi, io mi pongo sempre tre tipi di domande e do anche le risposte. Sicuramente l'interesse dei genitori è quello di proteggere i bambini, perché tutti siamo genitori e io proprio come genitore e anche come nonno ho vaccinato i miei figli e ho vaccinato la mia nipote, perché questa è la scienza che mi porta a decidere questo. Quindi l'interesse dei genitori è questo. Come medico, l'interesse, come quello di tutti i medici, è quello che ci sia di operare per la salute pubblica. E quindi di fatto le vaccinazioni sono un strumento che va a tutelare la salute pubblica. Quali siano gli interessi di chi non vuole le vaccinazioni, francamente non lo capisco, o in parte forse in alcuni casi si può anche capire. Capire. Allora, l'ho detto prima, fra un mesetto circa siete pronti per partire con le vaccinazioni rutinarie della stagione invernale. Il caso del Fluard, ce lo ricordiamo tutti, insomma, dati anche in negativo importanti, questo bisogna dirlo, che purtroppo si sono registrati a fine stagione. Questo va detto. Sì, e questo è stato una situazione drammatica, perché anche lì è dovuta ad un'informazione, ma in realtà l'informazione ha fatto anche il suo dovere, nel senso che è nato giustamente un allarme, perché l'attenzione sui vaccini è altissima. E giustamente ci deve essere, perché è un presidio di sanità pubblica estremamente importante, per cui è bene che ci sia l'attenzione e dei mass media, e della gente, e dei medici. Però questa, quando si verificano situazioni, come nel caso del Fluard, che non c'entrava niente rispetto ai morti che venivano segnalati, ha creato un crollo delle vaccinazioni anti-influenzali, per cui, dai dati che mi risultano, in conseguenza di questa ridotta vaccinazione, soprattutto dei soggetti a rischio, i cardiopatici, quelli che hanno problemi respiratori, e così via, si è creata sicuramente 500 casi gravi di influenza, ma gravi vuol dire rianimazione, vuol dire situazioni veramente pesanti, e si parla di oltre 150 morti dovute a questa riduzione delle vaccinazioni. 100, più di 150 morti. Quindi, insomma, non è che... L'influenza si sa, insomma, ha una percentuale di mortalità intrinseca, la porta. Esatto, e soprattutto nei soggetti a rischio è estremamente importante la vaccinazione. Tra i morti c'è anche una donna in gravidanza, cioè, voglio dire, quindi, da questo punto di vista, la vaccinazione diventa fondamentale nei soggetti a rischio. Ecco, tornando ai nostri virgulti, insomma, ai bambini pediatri, quali sono le coperture offerte dalle vaccinazioni? Noi offriamo tutte le vaccinazioni che vanno dall'antipoglio, l'antipertosse, l'antitetanica, l'antiemophilus influenzae, l'antimorbillo, l'antimeningococco, e anche l'anno scorso abbiamo registrato dei casi che poi sono anche lì, arrivati a livello della stampa, abbiamo avuto diversi casi, alcuni casi di meningococco, di meningite. Ah sì, ne abbiamo parlato. Il pneumococco è un altro vaccino estremamente importante perché al pari dell'influenza, soprattutto anche questo, nei soggetti, anche negli adulti, nei soggetti a rischio, al pari dell'influenza è una vaccinazione che deve essere proposta. E oggi si incomincia a proporre gli stessi specialisti quando c'è una dimissione ospedaliera di un soggetto che è cardiopatico, che ha problemi respiratori, che ha problemi neurologici, spesso viene prescritta anche già dallo specialista la vaccinazione antipremococica. Abbiamo l'epatite B, sono tutte malattie queste che grazie alla vaccinazione i casi sono ridotti notevolmente. Però l'anno scorso abbiamo avuto anche degli episodi la meningite da hemophilus influenzae. Abbiamo, per non parlare, della rosolia in età adulta, soprattutto nelle donne in gravidanza. E lì è importante anche la vaccinazione degli operatori sanitari. Io questo lo raccomando. I primi a doversi vaccinare sono i medici, sono gli infermieri, sono gli operatori sanitari. La copertura è, diciamo, totale, insomma, di rispetto a quello che è il panorama delle possibilità. Sì, sì, difterite, tetrono, per tosse, poliomenite, patite. Adesso, per non dimenticare nessuna, prendiamo poco, morbillo, parotinite, rosolia. La varicella, adesso si è introdotta la vaccinazione varicella che è collegata anche all'aspetto dell'herpes zoster, quella malattia talmente dolorosa che da adulti provoca anche situazioni abbastanza pesanti. Pesante. C'è un sito che l'abbiamo citato in apertura al quale ci si può rivolgere. Io lo dico a voce www.vaccinarsi.org nel quale oltre anche a vaccinarsi.blogspot.it che sono due siti riconosciuti anche dalla società scientifica a cui appartengo anche dallo stesso ministero dell'Istituto Superiore di Sanità perché sono scientificamente corretti. Dopodiché ce ne sono tanti altri di siti che spero magari mi è andato in sovrimpressione tipo Epicentro ci sono anche NIV il Nutro Italiano delle Vaccinazioni c'è quello gestito dai pediatri della Federazione Italiana dei Medici Pediatri la Società Italiana di Pediatria che ha lo stesso sito che sono tutti i siti dove uno può trovare informazioni corrette sulle vaccinazioni. In più c'è una novità una novità che vi do così quasi in anteprima che è un numero verde a livello nazionale che è stato istituito in collaborazione con il Centro Nazionale di Controllo delle Malattie che è il CNN dall'Istituto Superiore di Sanità dal Ministero della Sanità e dalla Università di Foggia che è un numero verde fruibile ogni lunedì dalle 10 alle 18 e direi che magari lo mandate in onda così la gente può avere anche un rapporto diretto con professionisti con operatori che sono dedicati a dare una corretta informazione. Ecco lo diciamo anche a voce l'800 56 18 56 ogni lunedì dalle 10 alle 18 è una novità è partita questa settimana. Quindi questo è a livello nazionale poi insomma a livello locale siamo sempre disponibili i nostri assistenti sanitarie io ringrazio il Dottor Monaldi soprattutto qui a Fano la Dottoressa Pesaresi il Dottor Vaccarro la Ghiselli Natalina che è la nostra storica assistente sanitaria sono disponibili il mercoledì al telefono per ogni qualsiasi informazione per eventuali appuntamenti cambiare appuntamenti e hanno un lavoro esclusivamente dedicato a questo quindi sono preparate si aggiornano per fugare ogni dubbio ogni domanda. adesso a Fossombrone abbiamo altri assistenti sanitarie ma così in tutta la provincia cioè ci sono ambulatori dedicati con personale altamente specializzato. Un'ultima cosa che vogliamo così chiederle è un po' la fotografia della nostra provincia visto che lei è di fresca nomina di responsabile dell'area vasta 1 per il dipartimento di prevenzione che situazione è? Che fotografia possiamo dare? una fotografia che può rassicurare o che deve essere attenzionata? Noi la stiamo attenzionando tantissimo nel senso anche da parte dell'ASUR e della direzione di aria vasta c'è molta attenzione nei confronti della prevenzione soprattutto per quanto riguarda l'aspetto vaccinale c'è un progetto a livello di ASUR di procedere ad un ulteriore aggiornamento professionale di tutti gli operatori sanitari che partirà da fine di quest'anno già ci stiamo lavorando per cui a cascata andremo a formare possibilmente tutti i medici infermieri paramedici che lavorano nell'ambito delle singole aree vaste questo in tutta la regione Marche è un progetto ambizioso perché dobbiamo così aggiornare sulla cultura vaccinale tutti gli operatori sanitari per gli altri aspetti sono di nomina recente ci metteremo mano a lavorare e so che ho dei collaboratori che mi daranno sicuramente una grande mano vediamo bene le auguro un buon lavoro innanzitutto grazie per essere stato qui con noi e averci fatto questa fotografia della situazione e soprattutto della necessità di informarsi prima di decidere qualsiasi azione che riguardi la salute dei nostri figli decidere in coscienza i parametri i riferimenti li abbiamo adesso avete anche un altro numero in più al cui rivolgersi lo ripeto è l'800 5618 56 da poco istituito che ogni lunedì dalle 10 alle 18 può rispondere a livello nazionale alle vostre domande ma il dottor Agostini e i suoi collaboratori sono anche a vostra disposizione per tutta la provincia compresi pediatri compresi pediatri e i vostri medici di base l'importante è informarsi e informarsi nel modo corretto questo è il messaggio che dobbiamo sicuramente dare bene grazie grazie a voi per l'opportunità e alla prossima per questo approfondimento dedicato alle vaccinazioni e alla salute è tutto io vi rimando ai prossimi appuntamenti buona serata a tutti voi grazie a tutti